Ciao, io sono Elia Calò, ben ritrovato al Giardino Sotto il Naso, ci troviamo qui nel Bar Mita e siamo pronti per un nuovo interessante episodio dell'ABC del Bartender. In questo video ti parlerò della tecnica di versaggio Backhand. Io sono un bartender professionista, appassionato e studioso di erbe spontanee, ideatore di Amaro Satrio, Liquore Pineda e Vermouth Mita, ma ora andiamo a scoprire come funziona. Bene, prima di cominciare mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella. Dopodiché ora è il momento di addentrarci in questa nuova tecnica molto interessante che tra l'altro è quella che io utilizzo di più, soprattutto quando c'è un afflusso di gente un po' più importante. E' una tecnica che mi dà molta velocità e dinamicità seppur io abbia uno stile abbastanza classico, quindi diciamo che il mio stile è tarato sul classico, però aggiungo dei piccoli accorgimenti in Free Puring che rendono il tutto molto dinamico, è bello da vedere. Bene, di che cosa abbiamo bisogno? Intanto abbiamo bisogno di una bottiglia vuota con dell'acqua dentro, come ho già detto nello scorso video del Free Puring in frontend, ti sconsiglio di utilizzare delle bottiglie con dei liquori, con dei distillati veri, perché stiamo imparando, quindi impara con l'acqua per bene il movimento e poi una volta che avrai una buona confidenza potrai utilizzare le bottiglie vere. Per lo stesso motivo, insomma all'inizio, perché si può essere un po', ci può scappare la bottiglia o altro, ti consiglio di utilizzare dei materiali plastici, così se ci cade non succede niente. Quindi bottiglia, un bicchiere di plastica, un imbuto, un metal pur e una caraffa appunto con per facilitare il versaggio dell'acqua. Nello scorso episodio abbiamo parlato della tecnica frontend, dove la bottiglia, immaginando che questo sia un grande orologio, partiva dalle sei e mezzo fino all'una e cinque, con il flusso regolare e parallelo al bicchiere, in questo caso. In questo in questo episodio invece ti voglio parlare di una tecnica che, anziché impugnarla appunto frontend, quindi con un'impugnatura frontale, andremo ad impugnarla in backhand, quindi il palmo della mano va girato e andremo ad impugnare la bottiglia in questo modo e sarà il movimento a specchio rispetto a quello che abbiamo fatto l'altra volta. Quindi andremo a versare partendo dalle sei e mezzo, quindi andando un po' a ventaglio, partendo dal basso e andremo ad arrivare alle undici meno cinque. In pratica prenderò adesso una bottiglia nella quale ho già messo dell'acqua, ti consiglio chiaramente all'inizio di partire con una bottiglia o vuota o con pochissima acqua, perché una bottiglia troppo piena potrebbe, essendo movimenti nuovi per per te, potrebbero insomma appesantirti il braccio e potresti farti male. Quindi vai per gradi, ok? Prenditi il tempo che ci vuole. Andrò a questo punto di inserire il metal pur tenendo conto che la parte del beccuccio, quindi l'orientamento del beccuccio che va in questa direzione, sia l'opposto del del dorso della mia mano. Quindi, tenendo conto che la bottiglia la impugnerò in questo modo, il beccuccio dovrà andare da questa parte. Andrò ad inserirlo all'interno assicurandomi che aderisca per bene. Dopodiché vado a versare e posso decidere di chiudere in avanti oppure posso decidere di chiudere all'indietro. Ricordati che quando versi di tenere in considerazione il focal point che appunto di solito corrisponde al centro del bicchiere e serve per appunto mantenere un flusso e un versaggio preciso anche quando andiamo in chiusura. Per facilitarti, l'altra volta ho detto di immaginarti di avere a che fare con il centro di un imbuto. In questo modo avrai sempre un versaggio lineare e focalizzato. Mi raccomando, quando andiamo a versare, tieni conto che il beccuccio non deve essere sopra le due dita, quindi sopra i 4 cm dal bordo del bicchiere. In questo modo evitiamo che ci si schizzi o che il liquido fuoriesca e quindi che sprechiamo del prodotto o che ci sporchiamo o possiamo anche sporcare il cliente. Bene, un'ultima cosa è come chiudere appunto il flusso e quindi come chiudere la fuoriuscita del liquido. In questo caso vado semplicemente a inclinare la bottiglia fino a quando non esce più il liquido e poi il ritorno alle 6 e mezzo così come abbiamo fatto all'inizio. Ripeto, chiudo e torno. Come dico sempre mi raccomando separa la parte pratica in due fasi. La prima fase deve essere imparare bene il meccanismo quindi proprio il movimento e dopo vai di precisione, quindi suddividila in due parti. La seconda fase dove parlerò appunto della precisione e del conteggio e te la farò vedere la prossima volta. Se ti è piaciuto questo video mi raccomando un bel pollice all'insù, commenta e condividi con i tuoi amici, in questo modo mi darai la possibilità di crescere e darti maggiore contenuto gratuito. Approfitta dei commenti per scrivermi se c'è un argomento che vorresti approfondire e mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella, in questo modo rimarrai sempre aggiornato e non ti perderai neanche un episodio nel restante di dirci ci vediamo presto, anzi prestissimo. Alla prossima, ciao!